La canzone d'autore è il panel della terza giornata del Medimex, il programma della regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il teatro pubblico pugliese, in programma a Taranto fino a domenica 18 giugno. Oggi la canzone sta cambiando, nuove tecnologie, nuovo pubblico e nuovi personaggi. Esiste ancora una canzone d'autore? Devo dire che sono qui forse per porre ulteriori domande, non so dare risposte perché dovremmo prima di tutto chiederci che cos'è la canzone d'autore, cosa intendiamo e forse poi ci possiamo mettere d'accordo. Come possiamo al tempo stesso salvaguardare il patrimonio della canzone d'autore e rinnovarlo, magari anche a partire proprio dalla scuola, come sostiene Roberto Vecchioni nel suo intervento al convegno Cantautori a Scuola, organizzato dal Club Tenco per ribadire con convinzione. Come la didattica può evolvere in Italia anche a partire da un nuovo ruolo della musica e della canzone. Dobbiamo continuare a supportare questa iniziativa straordinaria, dobbiamo cercare di coinvolgere quanto è più possibile i nostri ragazzi, le nostre ragazze, le nostre scuole, le nostre università. Dobbiamo davvero fare tutto questo perché è importante che la Puglia si caratterizzi anche per queste iniziative. Nella città di mare anche il noto cantautore Ron. È chiaro che quando uno scrive una frase piuttosto che quattro note messe insieme è autore di qualcosa, è autore di una musica e di un testo. Per cui sì, anche quelli che fanno la 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 la, i muratori che stanno dicendo, comunque sono proprietari di qualcosa.